Come era già accaduto in occasione delle dimissioni dei tre assessori della Giunta Coppola, anche questa volta con le dimissioni di dieci consiglieri che hanno causato lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i carabinieri della locale Compagnia di Agropoli sono stati delegati ad acquisire gli atti affinché si possano verificare possibili ingerenze nelle decisioni degli amministratori dimissionari. È da qualche anno che il Palazzo di Città è attenzionato dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Investigativa Antimafia, senza che ciò abbia tuttavia mai comportato l'assunzione di un provvedimento di scioglimento da parte del Ministero dell'Interno, né in passato quando a guidare la città di Agropoli era stato Franco Alfieri, attuale sindaco di Capaccio Pestum, né negli ultimi cinque anni quando a guidare la Giunta è stato il suo ex vicesindaco, Adamo Coppola. Queste ingerenze giudiziarie e l'atteso arrivo del commissario prefettizio per la gestione della ordinaria amministrazione fino alla scadenza elettorale del 12 giugno non bloccano però la campagna elettorale che entra invece sempre più nel vivo. Il candidato civico Massimo Laporta ha deciso di partire dalla località Moio per avviare i suoi incontri territoriali sul tema destinazione Agropoli, attraverso cui presentare i punti del suo programma amministrativo e le liste civiche a suo sostegno. Ma la giornata di ieri è stata anche quella che ha visto Elvira Serra formalizzare la sua discesa in campo. In una nota affidata alla stampa il medico agropolese ha dichiarato «Io e la mia squadra di persone serie, competenti, animate da spirito di passione, al servizio della comunità, siamo già al lavoro per realizzare progetti volti al bene comune. La nostra strada è chiara, il rinnovamento in una nuova politica di ecosostenibilità in tutti i settori. La tutela dei cittadini deve passare prima di tutto attraverso una sanità giusta ed equa ed ognuno deve concorrere a ciò per la propria parte». La nota si conclude con un ultimo appello. «L'impegno che prendo con i miei concittadini sin da ora è consegnare una città futura fatta di lavoro, equità, rispetto per tutti e per l'ambiente bellissimo in cui abbiamo la fortuna di vivere. Un luogo che ha tutto per bellezze naturali da fare invidia al mondo intero e che aspetta solo di essere tutelato, valorizzato e compreso. Parleremo in tutti i quartieri del nostro progetto «La primavera delle idee» a cui tutti sono invitati a farne parte».